Buongiorno a tutti, faccio questo video perché ho appena terminato una conversazione telefonica con l'assessore di Napoli Luca Trapanese in merito alle mie dichiarazioni a Piazza Pulita da Corrado Formigli la settimana scorsa. Io mi sono detta contrario all'utero in affitto e l'ho detto in maniera sbagliata e mi chiedo scusa alle donne di Scampia per una frase decontestualizzata e errata che ho pronunciato. Io mi riferivo alle donne della criminalità organizzata, alla paura che ho rispetto all'utero in affitto per l'abuso che si può fare del bisogno economico che una donna può avere in aree di disagio. Ovviamente conosco molto bene la forza delle donne di Scampia, so le lotte che vengono quotidianamente portate avanti da queste donne, da queste famiglie, insieme alle associazioni e alle istituzioni e quindi mi dispiace veramente se sono stata fraintesa o se mi sono espressa male. Verrò con Luca a Scampia prestissimo perché voglio parlare con voi, voglio chiedervi scusa guardandovi in faccia come nel mio stile e ricordarvi che io sono una campana nata in periferia, nata in provincia e conosco benissimo anche il racconto distorto di Napoli, Scampia, delle nostre terre che è stato fatto spesso dalla stampa, da alcuni libri, da fiction televisive e quindi sarò felicissima insieme a voi di prestare se vi farà piacere il mio volto, la mia voce, le mie battaglie per raccontare una Scampia e una Napoli diversa. Contestualmente dico anche che non accetto lezioni sui diritti da nessuno, non mi farò strumentalizzare da qualcuno in un momento delicato di campagna elettorale. Io ho votato a favore dei diritti civili in dissenso dal mio ex partito politico perché ci credo fortemente, così come credo che un bambino abbia il diritto di crescere e nascere in famiglie dove esiste solo l'amore e quindi mi sono dichiarata più volte favorevole all'adozione da parte di un singolo di coppie omosessuali. Ma non è il tempo delle polemiche, è il tempo dei chiarimenti. Caro Luca ci vediamo a Scampia.